Benvenuti all'ascolto dei podfast ANCO, la cardiologia basata sull'evidenza, rubrica di aggiornamento scientifico a cura dell'area giovani ANCO. L'articolo che vi presentiamo si intitola Stress Testing vs CT Angiography in Patients with Diabetes and Suspected Coronary Artery Disease, primo autore Abhinav Sharma del Duke Clinical Research Institute Durham, North Carolina, pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology, OJAC, il 5 marzo 2019. La TC coronarica è un esame diagnostico non invasivo che permette di conoscere l'anatomia coronarica e la visualizzazione delle placche ateromasiche, fornendo dunque informazioni importanti per la gestione dei pazienti con sospetta coronaropatia. L'articolo in esame riporta una sottoanalisi del trial PROMIS, edito sul New England Journal of Medicine nel 2015. Il trial originale aveva randomizzato quasi 10.000 pazienti con dolore toracico stabile a TC coronarica vs stress test, quali ergometria, scintigrafia o decografie da stress. Nel trial, la TC coronarica migliorava la predizione del rischio cardiovascolare e riduceva gli esami coronarografici negativi, ma ad un follow-up di due anni, la TC coronarica non era associata a una riduzione del tempo in primario di morte, infarto miocardico, ospedalizzazioni per angeli stabili o complicanze per il procedurale. La sottoanalisi dello studio PROMIS ha confrontato gli outcomes del gruppo di pazienti con diabete, 1908 pazienti, ossia il 21% del totale della popolazione arruolata, con gli outcomes riportati nel gruppo senza diabete. Rispetto ai pazienti senza diabete, i diabetici erano simili per età, con una mediana di 61 vs 60 anni, ma avevano un maggiore prevalenza di comorbidità cardiovascolari. Inoltre, avevano anche un più alto tasso di positività dei test diagnostici non invasivi, 15,2 vs 11,5%. Nel corso di un follow-up di due anni, nel gruppo di pazienti con diabete, la TC coronarica rispetto agli stress test era associata a una riduzione significativa dell'end point composito di morte cardiovascolare e infarto miocardico, 1,1 vs 2,6% rispettivamente, dato non osservato nei pazienti senza diabete. I risultati di questo studio suggeriscono che nei pazienti con diabete o dolore toracico stabile sospetto per malattia coronarica, la TC coronarica potrebbe essere utilizzata come iniziale test diagnostico non invasivo. L'editoriale di Michael Blah e Michael Canizos, pubblicato sullo stesso numero di Jack, suggerisce come la differenza di beneficio della TC coronarica rispetto allo stress test tra pazienti diabetici e non diabetici, osservato nel PROMIS ma non in altri studi sulla TC coronarica, sia almeno in parte dovuta al minor rischio cardiovascolare globale dei pazienti arrollati nel PROMIS. Altra osservazione interessante dell'editoriale è che tra i pazienti sottoposti a TC coronarica vi era stato un maggior e più precoce impiego di farmaci per la prevenzione di eventi cardiovascolari come aspirina e statine, verosimilmente conseguenza della visualizzazione diretta delle placche coronariche indipendentemente dalla criticità dell'ostruzione delle stesse. L'implementazione della terapia farmacologica quindi nel gruppo di pazienti diabetici con un più alto rischio cardiovascolare può spiegare la riduzione degli eventi avversi osservati in questo gruppo di pazienti. Nel gruppo di pazienti non diabetici e quindi con più basso rischio invece con un follow-up di soli due anni non è stato possibile osservare un tale vantaggio. In conclusione, l'editoriale sottolinea come il promise trial si aggiunga alla già numerosa evidenza sull'efficacia della TC coronarica come test di prima linea nei pazienti con dolore toracico stabile di possibile origine cardiaca. Grazie a tutti per il vostro tempo e non perdete il prossimo episodio. Restate sempre aggiornati con i podcast dell'Anco.